Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ci troviamo in una regione italiana famosa per i suoi villaggi collinari, dal caratteristico intonaco bianco. Per la campagna dà il sapore antico e genuino e per le centinaia di chilometri di costa dorata dalle acque cristalline. La Puglia. Ma a partire dal 1995 e per oltre due anni, in questa porzione di paradiso terrestre, si diffonde il terrore. Soprattutto tra i territori di Bari, Foggia e Taranto e in particolare tra gli abitanti dei Bassi. Piccole case composte da un piano con ingresso direttamente sulla strada. Diverse donne anziane che vivevano da sole sono state ammazzate in modo violento. In alcuni casi l'assassino o gli assassini si sono impossessati di un misero bottino. Si tratta di pochi spiccioli e qualche gioiello. Le case sono state messe a soccuadro, ma non si individua un movente, una spiegazione plausibile. L'unica certezza è che questi delitti lasciano nelle residenze una cospicua scia di sangue. Le signore anziane che vi abitavano sono state uccise senza alcuna pietà e l'arma utilizzata è sempre la stessa, ovvero un coltello. A volte l'assassino ha colpito le sue vittime con un solo offendente inferto al collo, altre volte ha infierito su di loro arrivando a colpirle anche dieci volte. La paura si diffonde, è necessario trovare i colpevoli? La polizia procede a tentoni cercando di individuarli. Risaltano subito alcuni quesiti a cui rispondere. Gli amicidi sono commessi tutti dalla stessa mano? Oppure non si ravvisano somiglianze tra i delitti? È una casualità che le vittime siano tutte signore anziane? Intanto, nei bassi, gli amicidi continuano. Dopo il rinvenimento della quinta vittima, la polizia inizia a notare uno schema. Il modus operandi dell'assassino è sempre lo stesso, così come il profilo delle vittime. Il dubbio si insinua nella mente degli inquirenti. Forse il colpevole è uno solo, un serial che uccide unicamente donne anziane e che si sta dimostrando astuto e spietato. Gli abitanti della Puglia sono colti da una vera e propria psicosi. In preda al panico, le donne anziane non escono più. Anche quelle che, nel periodo estivo, erano abituate a lasciare gli usci aperti, si barricano in casa. Il profilo dell'assassino emerge sempre più chiaramente, nel giro di pochi mesi. I giornali locali non parlano d'altro e si ipotizza che il killer prenda di mira le donne che hanno nomi legati a suggestioni religiose. Maria Totaro, Santa Leone, Grazia Montemurro, Celeste Madonna. Quando colpisce lo fa nei giorni centrali della settimana, il mercoledì o il giovedì. L'arma del delitto non viene mai trovata, ma si evidenzia un dettaglio ancora più inquietante. Le porte delle case delle vittime non sono mai state forzate. L'assassino quindi le conosceva? Le vittime si fidavano di lui? Di certo le donne hanno accolto in casa il loro carnefice e nessuno dei vicini ha mai visto nulla di sospetto. Tuttavia l'assassino si muove in modo disorganizzato, commette diversi passi falsi e lascia traccia di sé. In casa di Giuseppina Barbetta, una delle vittime, viene trovato un cappello da uomo. In quella di Anna Maria Stella viene rinvenuto un mozzicone di sigaretta. In quella di Maria Totaro si può addirittura rilevare un'impronta digitale. Gli elementi vengono messi a confronto, si ricava il DNA e i dubbi si dissolvono. L'assassino è uno solo. Solitamente i criminali che colpiscono le donne anziane sono molto più giovani delle loro vittime. Le uccidono nelle loro case, proprio come l'assassino delle vecchiette pugliesi, o nelle vicinanze della loro abitazione. Vivono nei pressi della scena del crimine e per la loro percezione tutte le vittime sono persone poco conosciute. A questo punto ripartiamo dal primo episodio legato a questa vicenda. È il primo maggio del 1995 e un uomo di nome Ezedin Sebai aggradisce Luigina Vigilante, una donna di 70 anni. È la prima volta che Ezedin assale un'anziana. Si introduce nella sua casa, le tappa la bocca e la colpisce con due coltellate, una alla mano destra e una alla gola. Luigina però reagisce, lotta, urla, riesce a metterlo in fuga. Quando viene arrestato, Ezedin, che è un immigrato clandestino, fornisce delle generalità false, dice di chiamarsi Abid Safi e di avere 38 anni. Viene condannato per quattro mesi per lesioni e porta abusivo di armi. Arriviamo al 25 aprile 1996, ci troviamo a Lucera, in provincia di Foggia. La porta dell'abitazione della signora Celeste Madonna è aperta, come quasi tutte quelle del paese, e le sue finestre danno sulla strada. Celeste è sola, si trova in cucina e sta pulendo il pesce per la cena. Dall'ingresso entra un uomo, uno straniero, che parla da solo e farnetica parole incomprensibili. La signora paura e comincia a strillare. Come detto, dalle finestre affacciate sulla strada provengono i rumori delle macchine. Ma chi passeggia? Potrebbe anche sentire le urla della donna. Ezedin allora la sbatte per terra, la immobilizza sul pavimento e cerca di farla tacere, spingendole una mano sulla bocca. Ma nulla, non riesce a farla stare zitta. È a questo punto che tira fuori un coltello a serramanico e la colpisce alla gola. Prima di andare via l'assassino si sciacqua le mani nel lavello della cucina, poi ruba pochi spiccioli da un vasetto di vetro. Ora è tranquillo. La signora Celeste giace sul pavimento e non può urlare più. La maggior parte degli aggressori di questo tipo raggiunge e si allontana dalla scena del crimine a piedi. Molti di loro hanno già alle spalle precedenti penali, soprattutto per furto, rapina e aggressioni. L'approccio utilizzato è quello di un attacco improvviso. La gravità delle ferite inflitte può fornire indizi riguardo all'età del killer e alla sua distanza dalla scena del crimine. Più gravi sono le ferite, più l'aggressore è giovane e vive nelle vicinanze della vittima. Arriviamo al 15 settembre 1997. Ci troviamo a Palagianello, in provincia di Taranto. Da poco è passata l'ora di pranzo. Sono le 14.40. Rosa è una bambina di 8 anni che abita vicino a una signora di nome Lucia Nico, di 75 anni. Lucia è malata e Rosa ogni tanto la aiuta nelle faccende domestiche. Quel pomeriggio, come tutti i giorni, Rosa entra in casa senza bussare. Lucia lasciava sempre la porta aperta. La bambina però, appena entrata, si ritrova davanti un uomo. Indossa un paio di boxer e sta rovistando nella borsetta bianca della padrona di casa, recuperata dalla poltrona. Rosa chiama la signora Lucia ma non riceve risposta. Intanto la sale un forte tanfo di sudore, un odore acre che infesta la casa. L'uomo si accorge della presenza di Rosa ma rimane calmo. La guarda negli occhi e poi le dice vattene spingendola verso la porta di casa. Infine gliela sbatte in faccia. Rosa scappa via correndo e va a chiedere aiuto alla zia. Le dice di aver sorpreso un ladro. La zia dunque decide di andare a controllare ed entra in casa di Lucia. Si rende conto che l'intruso è ancora lì ma si è rivestito. Indossa abiti puliti. La zia di Rosa, spaventata, si allontana velocemente. E Zedin si prepara a scappare perché sa che presto arriverà qualcuno a cercarlo. Aspetta il momento giusto per fuggire. Non vuole dare nell'occhio. Osserva dalla finestra i movimenti in strada. Infine decide di uscire. La mamma di Rosa, dal suo balcone, individua il malvivente con in mano la borsa bianca della signora Lucia. L'uomo evita di correre, piuttosto imbocca la stradina che porta alla stazione. Intanto il vicino della signora Lucia, Nico, donato di Leo, sente delle grida. Qualcuno esclama, stanno rubando a casa della signora Lucia? L'uomo quindi che fa? Esce da casa sua per dirigersi dalla vicina, sicuro di trovare il ladro. Tuttavia, quando entra nell'abitazione si rende conto che non c'è nessun intruso, ma in camera da letto individua il corpo senza vita di Lucia. Donato lascia la dimora sconfortato e spiega che la povera Lucia è morta ed è necessario chiamare le autorità. Dopo la telefonata al 112, gli agenti intervenuti recuperano il cadavere di Lucia Nico. È stata aggredita e uccisa con due coltellate alla gola. Scatta quindi l'inseguimento, il paese piccolo e molte persone dicono di aver visto un uomo sospetto dirigersi verso la stazione. I carabinieri riescono a raggiungere il malvivente. Lui grida di non aver fatto nulla, dice che stava semplicemente passeggiando. Tenta di divincolarsi, ma tutti lo hanno riconosciuto. Gli agenti lo bloccano e poi lo arrestano. Lì vicino sotto una catasta di traversine di legno trovano la borsa della signora Lucia. All'interno ci sono un paio di pantaloni e un coltello, sporchi di sangue. Lucia Nico è l'ennesima e ultima donna anziana pugliese uccisa tra il 1995 e il 1997 da Ezzedin Sebai con lo stesso modo soperandi. Finalmente dunque il colpevole è stato fermato e quegli anni di terrore possono giungere al termine. L'assassino è un maschio adulto di 33 anni. È nato a Cairo One in Tunisia il 15 ottobre del 1964. È il secondo di otto fratelli per un totale di quattro maschi e quattro femmine. È un immigrato irregolare. Ha una corporatura a un'altezza media, è gentile nei modi e conosce anche abbastanza bene l'italiano. È un fumatore accanito e ha svolto molti lavoretti ma soprattutto ha collezionato parecchi precedenti penali tra cui rapina e violenza intima. Entrava nelle case delle donne sole perché sapeva che sarebbe stato accolto più facilmente ritenendo che gli uomini fossero più ostili. La sua presenza però era diventata una minaccia in tutto il paese. Allora Zedin aveva deciso di farsi avanti soltanto nelle case occupate da donne più in là con l'età. E Zedin Sebai viene considerato il secondo serial più feroce della storia italiana dopo Donato Bilancia. Ma chi ha questo spietato assassino? E Zedin ricorda che da piccolo tutto gli era proibito. Ricorda in particolar modo il primo giorno di scuola, la presentazione del maestro ai compagni. Lo aveva accompagnato suo padre mentre sua sorella era già lì. A scuola Zedin si trovava bene, andava d'accordo con i suoi compagni e imparava senza difficoltà le nozioni impartite, anche se aveva dovuto ripetere un anno e aveva sostenuto l'esame finale in un'altra scuola. Di questo episodio aveva sofferto moltissimo. Con suo padre il rapporto era turbolento, lui lo picchiava, lo obbligava ad alzarsi alle 5 del mattino per imparare a memoria il Corano. Siccome l'uomo era analfabeta, per verificare che il figlio avesse imparato le sacre scritture, lo portava dall'imam, ossia il confratello a cui era affidata la direzione della preghiera rituale. Se Zedin non era in grado di recitare il Corano, suo padre e l'imam lo picchiavano. Il genitore lo puniva spesso severamente. A Zedin era proibito giocare ed entrare in contatto con gli altri coetanei, tanto che quando disobbediva l'uomo lo legava a due ganci appesi fuori dalla porta di casa. Gli altri fratelli e sorelle di Zedin non venivano trattati brutalmente come lui. Zedin di base finisce per diventare la pecora nera del paese e spesso anche altri compaesani lo aggredivano. Dormiva sotto i ponti, si nascondeva nella campagna vicino ai fiumi per evitare che suo padre lo trovasse. Sua madre invece ogni tanto gli dava qualche sigaretta. Zedin ricorda i suoi nonni materni. Suo nonno era buono e lo difendeva da suo padre. Sua nonna quando aveva qualcosa da mangiare glielo dava ma non interveniva mai quando lo picchiavano o lo legavano perché sorpreso a fumare. Ripercorre anche i quattro anni di scuola superiore. A 18 anni già pensava di andare in Italia perché in Tunisia non era felice. Si sentiva indesiderato da tutti, si ubriacava e passava le notti fuori. Aveva subito diverse denunce e la polizia era spesso sulle sue tracce. Fin da piccolo Zedin si relazionava agli altri in maniera totalmente anaffettiva. Come detto non sperimentava molte forme di incontro con gli altri bambini, di qualunque tipo. Per lui la vita era sempre stata un enigma. Cercava di capire che cosa gli altri volessero da lui, come non farsi usare dagli altri, come difendersi da loro. Suo padre, i suoi fratelli, in generale tutta la sua famiglia e i suoi compagni rappresentavano più che altro dei nemici. Tra le tante teorie su come nasce un serial, ce n'è una che sembra adattarsi alla storia di Zedin. Si tratta del modello trauma-controllo. Insomma, tutto parte da un evento destabilizzante, un trauma subito nell'infanzia. Con il passare degli anni, il futuro assassino sperimenta poi i cosiddetti fattori facilitanti. L'uso di alcol e di sostanze, il visionare materiale per adulti, rafforzano lo sviluppo di fantasie che pian piano diventano sempre più sadiche e perverse. Il primo rapporto intimo Zedin lo ha intorno ai 18 anni, con una ragazza che non era originale del suo paese, perché era scappata di casa. E Zedin, al tempo, viveva ancora in Tunisia. La storia però termina presto, perché lui esercita violenza su di lei e viene arrestato. Non ricorda quanti mesi sia rimasto in carcere. Tutte le volte che lo arrestavano in Tunisia, Zedin rimaneva in cella per 15-20 giorni, un mese al massimo. Poi lo rilasciavano sempre. Successivamente aveva spesso provato ad abusare di altre donne, ma non era mai stato condannato. Il secondo rapporto intimo Zedin lo consuma da ubriaco con una ragazza di nome Monia alle 5 del pomeriggio. Ricorda di averla presa per mano, poi l'aveva minacciata con un coltello. Mentre faceva violenza su di lei, Monia aveva iniziato a urlare. Infine, era riuscita a scappare. Poi Zedin aveva cominciato a frequentare i bordelli, sentiva il bisogno di parole dolci e di conforto. Zedin era stato solitario e solo, sia da bambino che da ragazzo. Gli piaceva vagabondare, specialmente di notte. Nel suo paese veniva chiamato il ribelle e spesso faceva del male agli animali, più precisamente agli asini che prendeva calci. Sempre di notte liberava le vacche e altre bestie che i padroni avevano legato, tirava le pietre dentro le case e faceva altri dispetti in giro, sempre ubriaco. Insomma, era il cattivo ragazzo del paese. Veniamo ora all'arrivo di Zedin in Italia. Nel luglio del 1988, Zedin giunge a Cerignola, in provincia di Foggia. Qui trova lavoro come bracciante agricolo. Nel maggio del 1990 si sposta a Merano, in provincia di Bolzano, dove lavora prima come lavapiatti, poi come operaio. A dicembre dello stesso anno viene arrestato per tentata violenza intima su una ragazza. Quando viene scarcerato, usufruendo della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, viene anche emesso un decreto di espulsione. Ma Zedin torna a Cerignola, dove rincomincia a lavorare nei campi. Difatti non viene mai espulso dall'Italia. Nel gennaio del 1993, Zedin viene nuovamente arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Bari per una rapina ai danni di un sacerdote. Fornisce false generalità e viene condannato a un anno e undici mesi di reclusione e a pagare una sanzione di 750.000 lire. Ottiene di nuovo la scarcerazione grazie alla sospensione condizionale della pena. Nell'aprile del 1993 viene nuovamente fermato a Pescara. Anche questa volta fornisce false generalità, dopodiché viene fermato altre quattro volte e si identifica sempre in modi diversi. Nel 1996, Zedin prende la residenza a Cerignola. Nel marzo del 1997 acquista una piccola casa. Il 15 settembre 1997 viene arrestato. È proprio il suo arresto a Palagianello a cambiare tutti gli scenari. Gli investigatori incrociano i dati a loro disposizione che convergono verso un'unica identità, la sua. Torniamo per un attimo a Palagianello, che come detto è un posto tranquillo dove si vive con la porta di casa aperta. È un pomeriggio di settembre come tanti. L'aria è calda, sono da poco passate le 14 e in paese si riposa. C'è il silenzio, le botteghe sono chiuse, le strade sono quasi deserte. E Zedin Sebai sa che Lucia Nico lascia sempre la porta aperta. La segue da giorni ormai. Conosce le sue abitudini? Va spedito verso l'ingresso dell'abitazione che dà direttamente sulla strada ed entra senza esitare. È però confuso perché ha bevuto parecchio. Tanto da ubriacarsi. Comincia a rovistare caoticamente dappertutto. Lucia Nico, insospettita dai rumori, va a vedere cosa sta succedendo e si ritrova faccia a faccia con l'intruso. Anzi, lo riconosce perché Lucia, quell'uomo, in realtà l'ha già visto. È un tunisino che aveva incontrato e inchiesa la domenica precedente e le aveva chiesto qualche spicciolo. La donna è chiaramente spaventata e gli chiede di andarsene e Zedin, al contrario, tira fuori un coltello a serramanico e colpisce Lucia che, terrorizzata, grida. Le sue urla però fanno scattare qualcosa nella testa del clandestino. Vuole che quella donna smetta di strillare. Come riportato prima, la spinge per terra e la immobilizza. Le preme una mano sulla bocca e a ogni reazione della signora e Zedin diventa più violento. La colpisce alla gola per cinque volte con il coltello, poi la trascina sul letto. Ora c'è silenzio. Ora Lucia è immobile, ma il suo sangue è sparso ovunque. Sul pavimento, sui vestiti di Zedin, sulle sue mani. L'assassino dunque si spoglia, rimane in boxer, ma continua a rovistare nei mobili della casa. Cerca soldi, gioielli, poi sente dei passi. Si volta e vede una bambina. Rosa. Sono ormai passati tanti anni da allora e Rosa non è più una bambina, ma quel momento non riuscirà mai a dimenticarlo. Rosa però non è l'unica a ricordare. In paese ancora tutti tornano a parlare di quel giorno terribile. Prima di uccidere Lucia e Zedin aveva passato qualche settimana in paese e tanti dicono di averlo visto spesso. Passava le sue giornate vicino alla chiesa tanto che il parroco Don Nunzio lo aveva accolto all'interno. Don Nunzio ricorda perfettamente quando lui e altri compaesani avevano notato a Zedin arrivare una sera verso le 19 e 30. Stavano giocando a bocce vicino alla parrocchia e avevano iniziato a parlare con lui. Il tunisino sembrava una persona tranquilla. Gli avevano offerto delle focacce prese appositamente per lui che se ne stava un po' in disparte. Proprio durante quella sera i paesani avevano deciso di ospitarlo perché Zedin avrebbe voluto dormire in un posto sicuro. Però dopo circa un'ora e mezza aveva cambiato idea chiedendo di poter uscire. E Zedin era tornato in chiesa altre volte e passava ore a guardare le anziane del paese che recitavano in coro il rosario. Mentre le donne pregavano lui si sentiva in pace con se stesso. Le osservava, le seguiva e le avvicinava. Chiedeva solo la carità e del cibo non dava fastidio e si poneva sempre con educazione senza insistere. Dunque si era guadagnato la fiducia delle anziane aveva imparato a conoscerle. Studiava le loro abitudini scopriva dove abitavano. Nella mente di Zedin rivivevano i tristi ricordi accumulati fin da piccolo quelli di un figlio non voluto dal padre di un bambino capro espiatorio delle marachelle fatte in classe di un ragazzino che non aveva mai avuto la possibilità di coltivare delle vere amicizie o di relazionarsi con l'altro sesso. La sensazione di subire continui rifiuti era un fardello che portava sempre con sé. Gli omicidi a sfondo intimo commessi ai danni di donne anziane hanno spesso origine da fantasie semplici. Gli assassini che li consumano non sottraggono oggetti personali della vittima per rivivere il piacere dell'aggressione. Non prendono trofei o souvenir. E Zedini infatti cercava dei contanti e gioielli nella speranza di rivenderli e guadagnare qualche soldo ma aveva commesso l'errore fatale di non liberarsene subito fornendo la prova schiacciante che lo legava alla vittima dell'omicidio. Spesso chi uccide donne anziane sulla spinta di un'intimità concepita in maniera distorta non si cura granché delle tracce che lascia sulla scena del crimine. Tracce biologiche prove di una violenza intima ma anche peli fibre e impronte digitali. Alcuni dimenticano persino oggetti personali sulla scena del crimine. A questo punto torniamo a Cerignola ci troviamo nel vicolo Matera 1 nel rione Terra Vecchia dove sono cominciate le perquisizioni a casa di Ezzedin. L'uomo vive in due stanze sprovviste di finestre. C'è un piccolo spazio per un fornello da campo e un lavandino. Ezzedin divide l'alloggio con suo fratello che fa l'insegnante ed educazione fisica e un amico. Anche il fratello di Ezzedin viene interrogato e poi rilasciato con un decreto di espulsione. In casa gli agenti trovano alcuni ritagli di articoli di giornale che trattano di omicidi di donne anziane uccise in Puglia. Inoltre rinvengono un anello un orologio da donna a cui manca una lancetta qualche altro gioiello e un coltello a serramanico. Sono proprio questi pochi oggetti che permettono agli inquirenti di collegare l'omicidio di Lucia e Nico ad altri delitti quasi identici. Maria Totaro ad 75 anni era stata uccisa il 15 gennaio 1997 a Cerignola. Anche lei viveva in casa da sola e anche la sua abitazione si collocava al piano terra. La donna era morta per una ferita da taglio alla gola. I familiari della signora Maria riconoscono alcuni gioielli trovati a casa di Ezzedin. Inoltre le impronte digitali rilevate nell'abitazione di Maria Totaro corrispondono proprio a quelle del tunisino. Ancora prima del tempo il 27 agosto 1995 era stata uccisa Angela Sansone di 84 anni a Spinazzola. Era l'ennesima donna anziana che viveva da sola ammazzata con sei coltellate in più aveva subito violenza intima. La polizia in realtà esaminando questo caso nutre dei dubbi pensa a un depistaggio. Ezzedin infatti era solito entrare in casa e mettere tutto a suo quadro per suggerire che ci fosse stata una rapina. Infatti portava sempre via qualcosa dalla scena del crimine ma prima di questo delitto non aveva mai fatto violenza sulle sue vittime. Gli esperti quando esaminano il corpo ed effettuano l'autopsia scoprono tra l'altro che l'abuso era stato esercitato quando la donna era già senza vita. Anche in questo caso l'assassino aveva lasciato delle tracce di sé e ancora una volta dalle analisi si risale ad Ezzedin. L'orologio senza la lancetta trovato nell'abitazione dell'uomo apparteneva proprio ad Angela Sansone. Ma come mai questo omicidio appare così diverso? Cos'era accaduto? Ricostruiamo gli eventi è ora di pranzo Angela ha preparato un pasto semplice un piatto di fagiolini che dispone sul tavolo da pranzo tuttavia non ha molto appetito e si sente stanca così va a stendersi sul letto all'improvviso sente dei passi la porta della sua stanza da letto si apre e un uomo irrompe di fronte a lei Angela non tenta nemmeno di scappare è paralizzata dal terrore l'intruso ha un coltello in mano e senza esitare la colpisce alla gola per ben sei volte poi fa violenza su di lei si accanisce sul corpo senza vita segnando l'apice di un delitto efferato di un vero sfregio poi l'assassino va a ripulirsi usando il lavello della cucina ora ha fame quindi si siede e mangia il piatto di fagiolini che Angela aveva preparato infine ruba un piccolo orologio da polso si cambia la maglietta e mette l'orologio in tasca esce in strada e va via l'omicida cammina disinvolto come se nulla di ciò che ha fatto lo avesse scosso come se quella fosse una giornata normale scandita dalle solite abitudini di poco conto purtroppo per lui quell'orologio rubato ritrovato dalla polizia in casa sua costituirà proprio una delle prove che lo inchioderanno poi c'è Santa Leone di 82 anni uccisa a Canosa il 9 maggio 1997 il modus operandi del killer è lo stesso così come la situazione la mattina del 29 luglio è Maria Valente di 83 anni che viene uccisa nella propria casa subendo 24 colpi di coltello inferti al corpo e alla gola il giorno dopo l'omicidio viene arrestato un giovane di nome Giuseppe Tinelli che forse non è il vero autore di questo delitto complessivamente le donne anziane aggredite e uccise tutte nello stesso modo risultano essere i territori in cui l'assassino ha colpito spaziano tra Bari Foggia e Taranto Ezzedin sebaia un serial un soggetto violento cresciuto in un clima di violenza da bambino come raccontato subiva maltrattamenti violenze abusi ma perché si era spinto fino a uccidere quelle donne Ezzedin riferisce che uccideva perché sentiva delle voci che lo perseguitavano che gli ricordavano qualcuno che aveva segnato la sua infanzia quelle voci accompagnavano in maniera forte l'atto omicidiario gli dicevano cosa fare nel momento in cui si introduceva a casa delle vittime dove orientarsi in un ambiente sconosciuto e come gestire l'aggressione il modo superandi di Ezzedin è chiaramente scandito da due tempi una fase delirante scaturita da un'intossicazione alcolica che ha raggiunto un limite intollerabile per il suo fisico e ciò che vi fa seguito poi la fase in cui dopo aver compiuto l'omicidio si ritrova coperto dal sangue della vittima a quel punto diventa tenace e spregiudicato si dimostra abile a fingere e a mentire quel bambino maltrattato una ex vittima è diventato un adulto violento un carnefice feroce un assassino spietato dopo l'arresto Ezzedin nega la propria colpevolezza si dichiara un perseguitato la vittima di una serie di equivoci sostiene dunque la propria innocenza in caserma nel corso degli interrogatori con i carabinieri l'assassino mostra una personalità complessa a volte ha un atteggiamento di sfida altre volte cede alla disperazione poi un giorno sbatte più volte la testa contro una scrivania e tenta il suicidio due volte in tribunale respinge tutte le accuse con ostinazione nega ancora la sua colpevolezza durante il processo l'avvocato di Ezzedin Sebai chiede una perizia psichiatrica ma il giudice non accorda il permesso l'imputato viene giudicato colpevole per gli omicidi di Lucia Nico Maria Totaro Maria Valente e Angela Sansone e condannato a quattro ergastoli tuttavia la sua vicenda giudiziaria è tutt'altro che conclusa prima dell'arresto di Ezzedin Sebai infatti erano già state accusate processate e condannate altre otto persone ritenute colpevoli dei delitti delle anziane pochi mesi dopo la pronuncia della pena di Ezzedin Vincenzo Don Vito un detenuto condannato per l'omicidio di una vecchietta si toglie la vita impiccarsi nella sua cella con un lenzuolo si era sempre dichiarato innocente la morte di Vincenzo Don Vito manda in frantumi l'equilibrio di Ezzedin che aveva conosciuto Vincenzo e gli aveva promesso che l'avrebbe fatto scarcerare senza però rivelargli in che modo ora che l'uomo si è tolto la vita Ezzedin trascorre lunghe notti di sofferenza prigioniero di incubi in cui è circondato dal sangue Ezzedin non resiste più e compie un gesto inaspettato chiede di parlare con il giudice e il 10 febbraio del 2006 confessa tutto si addossa le colpe di 15 omicidi di donne anziane ripercorre tutti i delitti nei minimi dettagli tanto che qualcuno si chiede è omitomane o dice la verità Ezzedin Sebai dice che aveva sempre agito in uno stato di ubriachezza contro le donne anziane attribuisce all'alcol la colpa delle sue azioni afferma di portare un peso enorme sulla coscienza l'alcol spiega Ezzedin gli faceva perdere la testa si convinceva così a commettere le rapine in casa delle anziane signore che vivevano da sole sottolinea che faceva la stessa cosa anche quando era nel suo paese dove ammette di essere stato arrestato in diverse occasioni al tempo però non aveva mai ucciso nessuna donna Ezzedin si ubriacava beveva di tutto ogni giorno super alcolici compresi a volte però decideva di rapinare le donne armato di coltello sostiene di aver messo in atto un numero imprecisabile di rapine almeno 1200 compiute tra il 1993 e il 1997 arrivava a tentare anche 4-5 rapine al giorno se le donne reagivano fisicamente o urlavano lui le uccideva precisa di aver sempre agito da solo e che in alcuni casi era riuscito a sottrarre sia denaro che gioielli la questione più spinosa a livello giudiziario e morale è questa siccome Ezzedin ha confessato di essere l'autore di delitti per i quali erano state arrestate altre persone le condanni precedenti sono frutto di terribili errori giudiziari o lui è davvero un mitomane? per scoprirlo le indagini vengono riaperte e si concludono con nuove accuse a carico di Ezzedin quella per l'omicidio di Madonna Celeste e dopo nove mesi anche per altri quattro delitti precedentemente attribuiti ad altre persone per i presunti innocenti viene quindi richiesta la revisione dei processi ma la procura di Taranto si divide qualcuno pensa che Ezzedin sia colpevole altri che sia un millantatore nel 13 febbraio del 2009 Ezzedin viene condannata a un altro ergastolo per l'omicidio di Rosa la piescopia i giudici che in tribunale processano e condannano Ezzedin ritengono che non ci sia la necessità di una perizia psichiatrica nel dicembre del 2006 il suo avvocato aveva nominato due esperti uno psichiatra e uno psicologo affinché lo visitassero quando parlava con gli esperti Ezzedin lo faceva con toni pacati e dimessi non sorrideva mai al limite faceva qualche smorfia aveva dimostrato fin da subito una fragilità interiore profonda e strutturata aveva una condizione di angoscia generalizzata ma tentava di mascherarla in tutti i modi non voleva mostrare le proprie debolezze lo psichiatra aveva individuato in lui un probabile disturbo dello sviluppo con presenza di tratti autistici e disturbi del comportamento Ezzedin come detto raccontava di sentire delle voci la prima volta in cui le aveva percepite aveva 14 anni e si trovava dunque ancora in Tunisia quelle voci però intervenivano solo e soltanto quando era ubriaco e lo angosciavano lo facevano star male Ezzedin dovete sapere chi aveva iniziato a bere quando aveva 8 anni un suo parente gli aveva fatto assaggiare del vino da una bottiglia da quel preciso momento stando a quanto dice Zedin non aveva mai smesso di consumare alcol mischiandolo alla Pepsi Cola quotidianamente a volte dopo aver bevuto tanto sentiva la voce di una persona giovane che gli parlava nell'orecchio sinistro poi quella di un uomo adulto e di una donna che gli sussurravano nell'orecchio destro le voci gli dicevano di andare in cerca di donne sole per stare un po' con loro e ottenere anche del cibo da ragazzino Zedin desiderava che queste donne gli dicessero una buona parola ma si introduceva in casa loro quasi sempre armato di coltello o di una pietra se lo accoglievano senza ribellarsi rimaneva tranquillo se lo aggredivano incominciava a picchiare la storia finiva sempre nello stesso modo veniva portato via dalla polizia che lo picchiava a sangue sua madre poi lo colpiva con le ciabatte e gli metteva del tabacco in polvere negli occhi per punirlo anche sua nonna e le altre donne del paese aiutavano la madre a dargli una lezione e capitava che gli introducessero del peperoncino dietro come castigo a 11 anni però i ruoli si erano invertiti e Zedin aveva cominciato a picchiare sua madre crescendo infatti si era reso conto di una cosa banalissima era diventato più forte di lei e anche i suoi fratelli lo temevano e Zedin nel suo paese portava il marchio incancellabile del reietto perché fin da bambino aveva manifestato una netta opposizione agli ordini impartiti dagli adulti soprattutto a quelli di suo padre disobbediva l'autorità paterna perché questa veniva esercitata attraverso la violenza e lui non poteva accettarlo in Italia spesso Zedin prendeva di mira le anziane vestite di nero perché gli ricordavano le donne del suo paese che quando era piccolo gliele avevano suonate di santa ragione in Zedin in sintesi avrebbe ucciso per schiacciare l'angoscia che lo soggiogava nella consulenza di parte si legge il signor Sebaia Zedin Ben Mohamed presenta una sufficiente coerenza nel racconto che corrobora l'ipotesi di personalità affetta da psicosi alcolica innestata su una personalità disturbata il perizendo è vittima di automatismi mentali che sulla base di una scena fantasmatica lo hanno portato a compiere omicidi con una precisa e coercitiva modalità seriale in carcere dopo essersi disintossicato dall'alcol Ezzedin ha smesso di sentire quelle voci osserva la lettera e il corano e trova conforto nella sua fede prega Allah cinque volte al giorno inginocchiato verso la mecca la prima preghiera la recita alle quattro del mattino poi riordina la sua cella e infine si prepara un tè caldo nel pomeriggio studia per diventare perito elettrotecnico ed è un detenuto modello viene condannato a cinque ergastoli ma gli viene sempre negata una perizia psichiatrica che gli consenta di essere ricoverato in un manicomio criminale per ricevere delle cure adeguate questa situazione va avanti fino al 2012 quando a dicembre all'età di 49 anni Ezzedin si impica nella sua cella nel carcere di Padova finisce così la vita di un assassino per una sua personale scelta dopo che aveva tentato di imboccare la via della redenzione diventando un impeccabile fedele musulmano e ribadendo l'innocenza di coloro che erano stati accusati al posto suo finisce la vita di un uomo disturbato che si era accaneto su bersagli vulnerabili donne anziane e sole a cui fuggire e difendersi risultava di certo più complicato donne la cui fine non doveva essere segnata dalle sue mani brutali conclusa con la firma rossa del sangue finisce e non è forse mai cominciata la vita di un bambino vessato e umiliato dalla sua famiglia per cui l'abuso di alcol è diventato ben presto un rifugio lenitivo ma purtroppo solo illusorio io ho finito di parlare di questo caso in questo video e sono molto curiosa di sapere qual è la vostra opinione quindi come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo caso a me ha colpito molto questa storia sono onesta ma la conoscevo già voi invece la conoscevate? fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo caso io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti